Pernitana dopo Treviso che sblocca il risultato contro il Piacenza grazie alla deviazione fortuita di Iorio sul pallone messo in mezzo da Palermo. I biancorossi al 37esimo riequilibrano il match con uno stacco di Ferrara sul calcio d'angolo battuto dalla sinistra. Sorpasso Piacenza al 60esimo con Naigoian che con il destro sorprende Kordaz. Il tocco sporco di Scurto dai là alla rimonta Trevigiana che si completa con il capolavoro di Scaglia. Il difensore trova una grande conclusione da fuori aerea che si infila all'angolino. Il big match tra vicino...